Happy birthday to you, happy birthday! Ciao a tutti e benvenuti da Uvretta su Arte per Te! Oggi è il nostro terzo compleanno, facciamo tre anni! Siamo piccoli, ma siamo tanti, quindi siamo grandi! Stiamo crescendo ragazzi, grazie a tutti per aver fatto diventare in tre anni Arte per Te un canale enorme, pieno di persone che interagiscono con me e che apportano un contributo attivo con la loro arte. Grazie per esserci così tanti su Facebook, grazie per commentare così serenamente e in maniera splendida tutti i video grazie per aver fatto di Arte per Te un contenitore di arte pulito, libero, sereno dove ognuno possa esprimersi nel migliore dei modi Arte per Te quest'anno continuerà il suo percorso sul tubo con tante novità spero ma anche rinfrancando la tradizione quindi continueremo tutti i corsi, pittura, iconografia, che ancora non è finito, restauro quindi la grande tradizione rimane, la storia dell'arte ritornerà più forte di prima e tutto, i bambini avranno sempre un occhio di riguardo, i lavoretti come sempre e chissà, qualche altra rubrica mi uscirà da questo cervellino andremo avanti con i miei venuti onikea e se avete qualcosa da suggerire, suggerite che qua tutto viene preso e quest'anno festeggerà con noi per la prima volta un esterino davvero speciale eh Tito? Ciao amici! Lo sai che oggi è il nostro compleanno? Facciamo tre anni su Arte per Te E che si mangia? La torta Tito, ma dopo, dopo se farai il bravo E' proprio salve, sei fissato Eh sì Tito, pensa tu che se le armate gommate avessero attaccato Colorium più di tre anni fa non ci sarebbe stato modo di aiutarli invece oggi i bambini sono tanti su Arte per Te le mamme sono tante sono tante, non mi interrompere quando parlo Ok Le mamme sono tante e così potremo salvare anche Colorium e quest'anno la torta la mangi anche tu Sì, sì, grazie Allora, ti dico Una letta a me Goloso E allora, insieme a Tito rivolgo a voi tutti gli auguri di buon compleanno perché Arte per Te siete proprio voi voi che ci state guardando e quindi auguri a tutti noi Ma un compleanno non può passare senza un regalo, vero Tito? Eh no Eh no Che ci mandate? No, non devono mandare nulla Tito Non essere spacciato Lasciatelo stare Tito, allontanati che devo prendere i regali No, va bene Puoi stare, puoi stare Ok E allora, i regali veramente a noi li hanno mandati E noi possiamo fare in modo di regalarli ai nostri amici di Arte per Te Va bene Durante l'ultimo anno di Arte per Te ho raccolto un po' di regalini che le varie ditte mi hanno mandato Alcuni ve li ho già recensiti, altri ve li recensirò in futuro E come voi sapete, tutto quello che transita ad Arte per Te, transita ad Arte per Te Poi arriva nelle vostre case E allora, nelle loro case, caro il mio Tito, arriverà innanzitutto una cosa che ho comprato io Che cosa? Queste matite, le matite acquarellabili della Stabilo Ah, le matite, mi piacciono le matite Sì, sì, sono 12 matite acquarellabili e sono nella scatoletta di latta Così arriveranno integre nelle vostre case Ok Voi spesso mi chiedete quali sono i colori acquarellabili che io preferisco E adesso, con somma sorpresa, mi svelo che sono questi I colori della Stabilo Sorpresone! Sì, perché molti pensano che mi piacciono le marche più importanti Che sono buonissime anche Però queste hanno un rapporto qualità prezzo eccezionale E soprattutto sono abbastanza cerose, grasse E vengono dei disegni pieni, caldi E in più l'acquarellatura avviene splendidamente Quindi, primo regalino E vai! Secondo regalino Ah ah Questo l'abbiamo conosciuto, eh Sì! Sono i play color della Instant Sono ben sei pennarelloni che danno una tempera istantanea Se non ve li ricordate, cliccando qua troverete il video di recensione Per vedere come funzionano E sono dei colori che sono in pratica delle tempere a pastello Voi le passate e sono subito pronte e subito asciutte Vedrete che meraviglia! Sono veramente, veramente buone! E poi? E poi, sempre sulla stessa falsariga Ecco qui, sempre della Play Color I colori per i tessuti Funzionano esattamente come le tempere Quelle che vi ho fatto vedere Si scrive come un pennarello sui tessuti E sono subito asciutte e subito pronte Lavabili e resistentissime Vedrete che di sentimento Ancora queste non ve le recensite Vi avviso, queste arriveranno aperte Perché dovrò aprirle come al solito Per fare la recensione Dopodiché ve le mando Ne consumo poco poco, promesso! Poco poco! Poco poco! La recensione la vedrete tra poco Io già l'ho girata naturalmente Però per mandarvele vuol dire che le ho trovate buone Però presto vedrete da mia mano come si utilizzano E vedrete che sarà facilissimo dipingere e disegnare sui tessuti In maniera semplice e alternativa Guardiamo questo video la prossima volta Poi, naturalmente quest'anno è stato cadenzato dai doni della My Mary Che ringrazio anche per averci permesso di fare l'incontro a Milano E allora invio un Oil Clean Reco Che è il detergente per i pennelli Con questi vengono puliti puliti Un Oiling della My Mary Il diluente che io uso Il medium che io uso per i colori Pazzesco! Ed è molto molto buono Vi invio anche questo Che è l'Oil Medium Anche di questo ancora la recensione non l'ho fatta La farò molto presto Sì, sì! Sapete cos'è l'Oil Medium? Una cosa fantastica Ve la farò vedere all'opera È un solvente organico che ha la stessa identica funzione della trementina Quindi una pittura senza odori Ma fluida e liquida come quella fatta con trementina Ve ne parlerò e vi spiegherò poi come si usa Perché questo ha bisogno di alcune accortezze per essere usato E poi? E poi Dulcis in fundo Ben 5 colori ad olio Della linea Olio HD della My Mary Eccoli qua Guardate Eccoli qua E sono 5 colori molto particolari Perché innanzitutto ci sono 2 colori fluo pazzeschi E sono bellissimi Un giallo e un fucsia Con cui potrete fare degli astratti pazzeschi Ho accoppiato a questi un arancio molto carico Perché ci sta benissimo E poi un colore che è un Game Over Purple Quindi un viola molto scuro Ho fatto una gamma di colori che andasse bene In un ipotetico quadro astratto E infine questo Heavy Metal Che è un grigio canna di fucile Insomma un grigio scuro metallizzato Per lato perlescente con l'argento Dei colori sbrexissimi E tra l'altro sono dei colori particolari Perché pur essendo olio sono molto fluidi Se li avete visti utilizzati da me In un video del corso di pittura Ve lo clicco qui Ma comunque Clicca qui sul nasino mio Sul nasino suo Allora ve lo clicco qui E poi farò una recensione molto più accurata Di questi colori ad olio Che trovo veramente veramente fantastici Per la loro facilità di stesura E per la loro rapida essiccazione Quindi questi sono i premi Che faranno parte del nostro giveaway Colori ad olio I medium della My Mary E il detergente della My Mary Le matite colorate della Stabio Bellissime E quindi della Play Color Sia le tempere solide Che i colori per stoffa Bellissimo Quindi è un cofanetto Che è un Un regalone È un cofanetto Che accontenta i grandi E i bimbi Lo sai cosa gli regaliamo ai bimbi? Cosa? Ce l'ho di là E ho dimenticato di portarla Una bella confezione Di colori a spirito Con tantissimi colori a spirito Benissimo Non vi ricordo Se ce ne sono 36 o 48 Ma sono proprio proprio tanti Va bene? Ok io E le includiamo Anche in questa confezione Quindi Per ringraziarvi Del vostro esserci Così presenti da tre anni Per avervi accompagnato In questo anno Mi è sembrato opportuno Proprio omaggiarvi Di tutte le cose Che hanno costellato L'anno di arte per te Spero che questo regalino Vi sia utile Il giveaway si apre oggi Giorno 29 di dicembre Giorno del nostro compleanno E si chiuderà Per il compleanno di Tito Il 6 gennaio Il giorno della Befana Ma io non sono una Befana Ombri Non sei una Befana? Neanche una scopa Neanche una scopa? Eh no Eh no Allora non lo fai il 6 gennaio Il compleanno? Dipende Se ci sono regali Per te Nessun regalo Per te Dito Basta Comunque Il giveaway Si chiuderà il 6 gennaio Tutte le regole per partecipare Le troverete qui sotto Nel box informazioni Perché voi vogliamo Che questi regali Arrivino ad una persona Della famiglia di arte per te Arte per te Difidate dalle imitazioni Arte per te Difidate dalle imitazioni Ma per sapere Le imitazioni Dito No Non abbiamo le imitazioni Io vi ringrazio tutti Perché in questi tre anni Siamo cresciuti Veramente tanto Ringrazio tutti I miei iscritti Tutti i miei iscritti Che nel corso degli anni Anche si sono presi di coraggio E hanno aperto il loro canale È vero Sì Ne ho visti Sono bravissimi Adesso non ci rimane altro Che salutarci Perché noi dobbiamo andare A mangiare la Torta E viva E viva la favorita di Tito E allora Da ombretta Tito E d'arte per te Ciao Buon compleanno Buon compleanno a tutti Auguri 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 E ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti